The Up è una produzione Netflix italiana, è un film del 2019, diretto da Elisa Fuchsas e avente come protagonista praticamente, non diciamo assoluto, ma comunque predominante nella grande maggioranza del film, Vincenzo Crea. Allora, lo dico subito, non mi ha molto convinto questo film, non mi ha esaltato quasi per niente, mi dispiace, mi dispiace perché a me piace che Netflix dia apparentemente libero arbitrio completo e libertà creativa completa ai suoi registi, ai suoi sceneggiatori, diciamo, e mi piace che Netflix coinvolga personalità italiane per poter fare dei prodotti quindi a marchio Netflix italiani. Alcune chicche me le sono godute venute da Netflix, mi viene in mente, che ne so, ARQ, ad esempio, Blue Jay, o ad esempio mi viene in mente... Mi viene in mente... Oh là là, adesso ovviamente non mi viene in mente... Ah, rimettendo i nostri debiti, ecco, mi ero dimenticato, con il duo Giallini e Claudio e Santamaria. Quello, secondo me, era un risultato migliore di questo qua. Questo film qua non mi ha convinto, ma non mi ha convinto perché fondamentalmente? Perché, ora, o è un limite mio che proprio non sono riuscito a comprenderlo, o era voluto l'effetto quello di, diciamo, far mischiare tutta una serie di generi, tenendo però ogni elemento, ogni genere predominante in linea con gli altri, quindi senza far spiccare un genere sugli altri, oppure fondamentalmente non si è riuscito ad amalgamare per bene il tutto. Ma il tutto su cosa si basa? Si basa sulla storia di Nick, appunto, il protagonista, che è il Vicenzo Crea, che è un ragazzo figlio di, probabilmente, non è chiaro, un potente industriale forse, o una cosa del genere, comunque ha soldi appalate, ha soldi letteralmente appalate. Si parla di almeno centinaia di milioni nel salvadanaio. C'è questo ragazzo che è nato a Milano, ma è stato via per tanto tempo, adesso è tornato nella bella Roma. E che cosa fa fondamentalmente nella vita? A parte fare la bella vita, anche se comunque apparentemente è una bella vita non particolarmente dissoluta dal punto di vista sessuale, anzi ha apparentemente una ragazza fissa, Eva, interpretata da Jessica Cressy, decide di fare l'attore. Decide di fare l'attore perché non vuole essere soltanto quello ricco figlio di gente ricca, quindi che può fare la bella vita e basta. Devo essere sincero, la cosa che mi è piaciuta di più per quanto riguarda questo personaggio, in realtà è che a un certo punto il suo avvocato, che è un personaggio che ci tiene rispetto a lui, Gian Piero Giudica, il suo personaggio a un certo punto dice smettila di giocare a fare il povero. Ora, in realtà è molto politicamente scorretta se vogliamo questa cosa, ma perché? Perché sì, perché un conto è ostentare, e va bene, ok, io non sono particolarmente favorevole all'ostentazione delle cose, onestamente, e un conto è fingere di essere uno qualunque, fingere di non essere un qualcuno che ha del potenziale, del mezzo potenziale superiore agli altri. Secondo me non è corretto, perché? Perché io non ritengo che siamo tutti uguali, indipendentemente dal merito, eh, sia chiaro, e ritengo che sia sbagliato pensare che bisogna fingere di esserlo. Secondo me bisogna accettare la diversità, lavorare sulla diversità per cercare di omologarla nel caso in cui per la persona diversa e per gli altri questa cosa possa essere un problema, e sapevo quando ovviamente bisogna mettersi un cuore in pace, e quindi è un, non lo so, mi sembra nel 2020 un messaggio un pochettino banale, un pochino fin troppo già sentito, quello del dobbiamo essere tutti uguali. E quindi il discorso che fa lui, sebbene, il discorso che fa il personaggio di Nick, sebbene possa avere un senso che non vuole sentirsi semplicemente il figlio di Rick o già di partenza, però, non lo so, mi sta un po' distanti ormai, fondamentalmente. Forse con gli anni sto diventando più cinico da questo punto di vista. Comunque, vuole fare l'attore, sta per interpretare, per un regista famoso, interpretato da Abel Ferrara, sta per interpretare Gesù, fondamentalmente, e cosa succede? Torna a Roma, torna a Roma in un meraviglioso albergo, e ogni tanto fa la scappatella alla casa al mare, a trovare il fratellino che è rimasto da solo perché evidentemente i genitori sono in giro, o perché non amano molto vedere il figlio grande, c'è un po' di zizzania fra i genitori e lui, o perché non amano la prospettiva di poter incontrare la ragazza di lui, che assolutamente non gli piace, non gli interessa, oppure perché semplicemente hanno da fare, quindi lasciano con la servitù il ragazzino. Comunque sia, cosa succede? La fidanzata, Eva, fa installare un'app di incontri, o più o meno di incontri, di chat, di chat più o meno erotiche, più o meno, diciamo, a scopo di flirt, al ragazzo, al fine di monitorare una cosa per una sua tesi di laurea. Questo esamino, questa tesi di laurea, che inizialmente il ragazzo, al quale inizialmente il ragazzo non voleva partecipare assolutamente, non gli fregava nulla, ma figurate me che me frega, sono tutte cavolate, a poco a poco però porterà il ragazzo a chattare con una teorica Maria, e in qualche modo a invaghirsi di questa persona, che malgrado non lo veda mai, anche se sembra onnipresente, assolutamente a fianco a lui, per certe cose che gli vengono dette, sembra conoscere la miglia degli altri, lui si invaghisce di questa Maria, e vuole incontrarla. Poco a poco, il tanto distacco iniziale da questo mondo di chat, incontri, flirt online, e cose del genere, a poco a poco viene meno, e inizia a diventare un pochettino una passione nascosta e torbida. Ma in tutto questo, che c'entra il personaggio di Greta Scarano? Allora, Greta Scarano, a mio avviso, che interpreta Ophelia, la, diciamola, la governante, per il suo dire, della stanza dell'albergo, fondamentalmente, una baga 5 stelle, incredibile, ha una strana attrazione per i personaggi di Nick. Inizialmente straspare un dolore molto profondo per il personaggio, un dolore che, per certi versi, forse potrebbe allinearsi con quello che sembra essere il genere, quello drammatico, relativo a solitudine del film. Ma poi cambia, o meglio, non cambia, però noi capiamo che cosa? Che c'è un fondamentalismo religioso importante nel personaggio di Greta, appunto, o, perdono, Ophelia. Vediamo che c'è tutta una interpretazione di quello che vede, di quello che sente e di quello che accade attorno, l'incontro con questo Nick. Lei interpreta tutto come non un caso, deve essere, in qualche modo, un qualcosa di religiosamente, cristianamente, voluto e significativo. Tutto questo si alterna a momenti con riferimenti religiosi, a momenti in cui il personaggio di Nick sembra avere delle mezze visioni un po' onigriche e un po' loro. Tanti momenti di disagio psicologico e anche fisico. Si alterna a momenti di difficoltà con la ragazza, perché la ragazza fiuta, il fatto che, la fidanzata fiuta, il fatto che il buon Nick si sta facendo delle storie con qualcun altro, comunque non racconta tutto. Nel frattempo lei gli aveva rivelato che era rimasta incinta e quindi diciamo che è un pochettino, giustamente, anche in apprezzione. Tutto questo con la produzione del film che non va, insomma, è un po' un casotto. È un po' un casotto che in neanche 80 minuti, io, onestamente, non mi ha confuso, ma non è riuscito davvero a intrattenermi, perché ha iniziato a miscelare in maniera un po' caotica, secondo me, non forse nata, assolutamente, ma un po' senza un, per come riesco a vederlo io, un filo conduttore, un motivo di fondo, tutta questa serie di elementi drammatici, religiosi, filosofici a un certo punto persino, poi c'è stato il fantascientifico, soprattutto nel finale, quando c'è la rivelazione, appunto, di questa Maria, c'è tutta una serie di cose che onestamente non ho trovato ben legate assieme. Non ho trovato ben legate assieme, e alla fine mi ha fatto perdere un'occasione di godere di questo film. Mi ha fatto perdere l'occasione di godere di questo film che aveva degli elementi che mi sono interessati. Ad esempio, un elemento che a me piace molto nei film sono le stanze d'albergo, gli alberghi. C'è tutto il film, sembra, soprattutto nelle scene dell'albergo, ma in generale, per tutto il film sembra che il personaggio protagonista di Nick sia in questi spazi giganteschi, ricchissime di cose, ma che sono letteralmente deserti. Tu vedi anche altre persone, ma non ci sono in realtà. Siamo dei soprammobili. Sembra un insieme di spazi deserti, vuoto, ma nel contempo ti senti sempre osservato. Non vivi l'azione, non vivi la storia. Tu hai la sensazione di essere uno che sta spiando qualcuno, che sta osservando qualcuno, che sta osservando il personaggio di Nick, che è poi la sensazione che, teoricamente, prova il personaggio di Nick, quando si vede le proprie foto, le proprie immagini, i propri filmati, i propri momenti sul cellulare mandati da questa Maria. È una cosa che, boh, non lo so, a me piacciono queste cose, questi sensi di vuoto strani, e qui mi sono stati sprecati, mi sono stati sprecati così come altri elementi. Anche il risvolto, diciamo, fantascientifico finale, con un, non lo so, forse, forse un'ispirazione alla storia del film con Joaquin Phoenix, quello in cui, la voce originale è Scarlett Johansson, nel film Lei, del 2013, in cui il personaggio instaura una relazione con un sistema operativo, in realtà, che in questo caso è un'app. È stata sprecata la cosa, non lo so. È stato, è stato un, ma che ve lo dico a fare, è stato insatisfacente, fondamentalmente. A me piacerebbe, mi piace quando i film italiani, soprattutto quelli recenti, che quindi possono essere un pochettino pubblicizzati, mi piace quando mi piacciono, mi piacciono, e cerco di farmi piacere, tendenzialmente, ma, mi dispiace, malgrado tutto, questo film, né per le recitazioni, le interpretazioni, pardon, che erano abbastanza piatte, da un certo punto di vista, forse, quello che mi è piaciuto di più, pur non piacendomi, è stato, Vincenzo, il personaggio di Vincenzo Crea, che è il protagonista, perché, in qualche modo, io non sono esperto di recitazione, e non conosco bene il concetto di recitazione in sottrazione, però, con sta faccia, praticamente, è sempre uguale, malgrado gli eventi che succedono, e il, e l'occasionale, ma forzato, in realtà, le espressioni che ogni tanto assumeva, in realtà, non le avvertivi, veramente, è stato tutto un film molto freddo, molto, molto freddo, e anche nei momenti di maggior calore, magari, anche un calore sofferto, come magari, la scena quella, del personaggio, della Greta Scarano, che si, che si va, a flagellare, a mostrare, il suo flagello, il cilicio, che aveva, alla coscia, alla, più o meno, camgirl, che è capitata, nell'app, non, non fa mai, trasferire, davvero, un'emozione, secondo me, non mi fa, non mi ha mai, fatto provare, per un'emozione, fondamentalmente, e diciamo, c'era tutta, di solito, è abbastanza facile, provare, delle emotività, in qualche modo, anche un po' viscerale, anche un po' dolorosa, quando vediamo, la sofferenza, patita, da certi personaggi, sia sul piano, psicologico, emotivo, sia sul piano, fisico, come appunto, nel caso di questo, auto, infliggersi, del dolore, morale della favola, The Up, non mi ha esaltato, e non mi sente, di consigliarlo, mi spiace, spero che, ci siano, altre produzioni, Netflix, italiane, in futuro, più, non più interessanti, di questo, comunque, il plot, poteva essere interessante, ma, più riuscite, spero che, da questa libertà, che viene data, apparentemente, la Netflix, nascano, dei prodotti, soprattutto italiani, assolutamente, di prestigio, e in generale, spero che, questa, comunque, libertà creativa, che, apparentemente, c'è stata con questo film, venga anche, data, poi, nel cinema, del sistema, nel sistema, tradizionale, che dirvi, The Up, non mi ha convinto, forse, tutto sommato, potete anche, evitare di guardarvelo,